E' l'era della pananazza. Eh? La pananazza! I gremiule! La panza. La panza. Ma che stai facci? Ma che stai facci? Ma che stai facci? Ma che stai facci? E' l'era della panza. Beh, c'è la panza? E' l'era della panza. E' l'era della panza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cinquecento. Brava. Tre mila e cinquecento. E ho fatto tre mila e... Cinquecento. 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 Allora... Babini... Babini... Gandini... Cinquecento. 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 Questa... è una cattina, giusto? Una cattina. Sino a qua. E... C'è disegnato... TUTTO... IL MONDO. C'è disegnato. E' da qua. Fatte c'è... Pakistan. Nooo... Si vede la Sardegna, Bambini... Si vede il portuccio... Cavolo... Ci vedono i pari... Ci vedono le fitte... Guardate... Si vede... Deborah che bruttilla... Aaaah... C'è disegnato... Non mi crede? Siiii... Siiii... Si vediamo... Io... Si... Come ti vedi? Corro... Devo dire la verità... Molto ciccio... Non è che sono uguali... Alle nostre sardegna... Perchè? Olie che portano tutte... E tutte attorcigliate... In il caderno di Bambini... Ci sono i orsi dei dei... Vabbè... Vabbè... E' solo... In Pakistan... C'è i cucar! Che cucar! E' che da questo? C'è? E' un certo... verso il bello, così, quindi più pace, bene, più pace, più serenita, e c'è la luce, e molto più grande l'intaglio e l'intaglio e l'intaglio e l'intaglio e l'intaglio e l'intaglio. Quanto mi trattere tutta la sardegna? E' la sardegna! Ora, quando si salva la mia madre e mia madre, non capa, non capa, non capa, non capa, non capa. Non fatica un po' e sessanta da te, ma, e poi se trattere più caldo. Andiamo! E' ciò sta fatto fuori dal collè. Ecco, ti sei dimenticato, gridaci se minimi! Ma non mi faccio, io e i minimi non vedi! Ecco, ecco, ecco figlio mio! Ecco! Non ce la puoi fare da sola da godire tutti questi animali, vai in città e lì troverai un posto di lavoro sicuro, così potrai aiutare la tua mamma, il tuo papà e i tuoi fratellini. Sì, guarda, ti ho portato un sacco con un pezzo di pane e un pezzino di formaggio, quello che c'è rimasto dalla sera prima, vai figlio mio, che sia un bambino coraggioso. Alla prossima Alla prossima E ora ti insegnerò a creare mille e mille e uno tappeti diversi. E ora osserva come si fa. E voi che fate? Non siamo venuti qui per divertirci, volete lasciare la sola e il bar? Forza, tutti a lavoro! Alla prossima Iqbal, vieni tua! Forza, veloce! Ti sei meritato il castigo! Iqbal, vieni tua! Iqbal! 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 Iqbal!